Ecco qua abbiamo superato questa piccola difficoltà e adesso entriamo in un tratto piuttosto accidentato però è anche molto divertente, insomma ci si può divertire a guidare qui c'è passato qualcuno in moto, si vede dalle tracce ecco qua, siamo in un single track adesso la strada riprende a salire ok 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 ok